L'artista vero è quello che è il mostro, è uno che mostra. Quando dice un artista che è un mostro, io lo uso in questa maniera, quando la gente ti chiama mostro, quando io facevo le mie performance, la gente mi chiamava mostro. Ma infatti quando ho capito, ho appropriato quello che loro dicevano per la mia comodità, ma sì, sono un mostro. Se un mostro, la parola latino, mostrare, è uno che show, è un mostro, l'artista deve mostrare. La cosa dell'artista o del mostro è di fare domande. E la cosa interessante, secondo me, è più interessante fare la domanda che ricevere la risposta. Perché se tu ricevi sempre la risposta che ti aspetti, o una risposta, non ricerchi più, no? Arrivi e non ha senso arrivare. Arrivare vuol dire morte, mediocrazia, no? Se tu sei soddisfatto ogni volta che tu fai una domanda, con la risposta che ti arriva, non ti alzi più dal letto al mattino.